Si è tornati a parlare di rifiuti nell'ultima seduta del Consiglio Comunale Aretino. In questo caso le interrogazioni sollevate dai banchi dell'opposizione hanno riguardato alcuni solleciti di pagamento per AISA relativi alle somme non pagate negli anni scorsi, nello specifico nel biennio 2011-2012. Mi risulta circa un migliaio di cittadini arettini che hanno ricevuto da pagare delle sovrattasse, quindi degli adeguamenti tariffari rispetto ad alcuni soldi non pagati nell'annualità 2011-2012, che è giusto perché ci sono stati adeguamenti catastali non riconosciuti. Dopodiché c'è stato però da pagare degli interessi di mora e delle sovrattasse. Quando l'errore è a monte, cioè quando non ci sono stati incrociati dagli uffici del Comune con il catasto, i dati delle nuove unità. Quindi noi stamattina abbiamo chiesto, e il sindaco ha detto di no, che questo ulteriore balsello venisse eliminato. Così non sarà, abbiamo fatto però appello che almeno ciò non avvenga per le annualità successive, quindi 13-14. Il balsello che quanto ammonta? Ma si dipende dal tipo di intervento, da un minimo di 30 euro, tra interessi di mora, eccetera, eccetera, un massimo di 500 euro, almeno quelli che mi hanno fatto notare in questi giorni, siamo su queste cifre qua.